. Franco Terlizzi si scaglia contro Francesca Cipriani, quella merdi donna mi ha nominato. In foto, credits, frezza la fata, IPA. . All'isola dei famosi 2018, Franco Terlizzi ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Francesca Cipriani per via della nomination ricevuta dalla Showgirl. Nel farlo, però, ha usato parole decisamente indelicate. . Così, Amauriz Perez lo ha rimproverato e lo ha invitato a moderare i toni. . Le parole di Franco Terlizzi su Francesca Cipriani. . Mentre chiattierava con Amauriz Perez e Nino Formicola, Franco Terlizzi ha usato parole decisamente poco carini nei confronti di Francesca Cipriani. . L'uomo, visibilmente infastidito, ha dichiarato, la Cipriani, quella merdi donna. . . Mi dispiace ma è così. . Sono incazzato ancora. . Amauriz Perez lo rimprovera. . Amauriz Perez lo ha subito fermato, ritenendo le sue affermazioni eccessive e indelicate. Il pallannotista ha spiegato, no, 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 questo no. . No, zio Franco questo non te lo posso accettare. . Scusami, è una persona. . . Nino Formicola, al contrario, ha spezzato una lancia a favore di Franco Terlizzi, però cè da dire anche che Walter Chiari diceva se uno è stron, non gli puoi dire Brighella. . Franco deluso per la nomination ricevuta dalla Cipriani. . In un confessionale, Franco Terlizzi ha spiegato il motivo del suo disappunto nei confronti di Francesca Cipriani. . A infastidirlo sarebbe stata la nomination della showgirl, Francesca mi ha nominato per la seconda volta, mi ha preso di punta. . Lei pensa che io sia stato la causa di tutto. . Io vado avanti per la mia strada e continuo a fare la mia isola. . Di Francesca proprio non mi interessa. .